Ciao a tutti, io sono Ayssa Mazzari, un studente algerino berbero qui in Italia. Io ho imparato la lingua italiana prima di venire qui in Italia e ho studiato tanto la storia e la civiltà di questo bel paese. Oggi voglio dire qualche parola di sostegno per questa grande nazione. Italia, i tuoi figli hanno dimostrato al passato la forza di combattere l'avversità e la sventura e lo dimostrano così come allora, combattendo oggi contro questo nostro invisibile del coronavirus. Italia, i tuoi figli portano nel loro sangue la forza dei combattenti. L'Italia di Lorenzo e dei Medici, di Dante Alighieri, di Giovanni Iverga, di Alessandro Manzoni, di Alberto Moravia, di Alda Merrini, Italia di Garibaldi, di Cammello Benso Conte di Cavour, di Antonio Gramsci e di Pier Giorgio Frassati, non si è un giorno che era mai. La voce dei bambini ritornerà ad inondare i giardini delle scuole. L'arte e la musica e l'allegria ritorneranno a riempire le strade e nascerano altre generazioni che porteranno il testimone dei loro avi, fieri di appartenere a una grande nazione. Alla fine vi dico, andrà tutto bene, ma noi intanto restiamo a casa. Grazie per l'ascolto.